Bella raga, oggi video per farvi vedere alcune cose che ho preso da Primark Ho finito da questo che ho già aperto, dove metto dischetti per struccarmi, crema da mettere prima di andare a dormire E qua dei cotton frock che ho già finito Poi vabbè, ho preso questa candela alla vaniglia perché sulla mia schivania non possono mancare Questa penso sia la più profumata, se l'accendo non profumiamo, mi cazzo Ho preso questo spray idratante alla vitamina E Poi maschera all'avocado perché amo l'avocado Un'altra maschera, boh era bella questa l'avoco E i patches al limone Poi ho preso questo per fare il contouring, che praticamente voi aprite così e è così E poi queste ciglia finte che palesemente taglierò Ho preso due maglie da usare in casa, barra come pigiama Una così verde scura Poi ho preso questa della leone E ultima cosa che ho preso da Primark, questa matita per le labbra, molto simile alla mia tinta Ora la ripasso un attimo per farvi vedere meglio Non so se si vede bene Besos